Sì, io mi sento sicuramente in linea con l'ansia Erodi, che ha espresso Gianni Tognoni. Soprattutto per questo, perché ci sono dei principi che possono essere utili per rispondere a quella domanda che veniva fatta, la prima domanda che è stata fatta, è possibile oggi cambiare qualcosa nel sistema in cui noi ci troviamo? Cioè, quindi, è il sistema, è questo qua, non è un altro. Io credo di sì, proprio cercando, vedere di sì non significa dire, avere una soluzione immediata qualcosa che si possa produrre nel tempo e poco tempo, ma credo di sì in ordine proprio a questo discorso della partecipazione. Cioè, nel senso che se la soluzione, diciamo, della sanità e della medicina sta nel fatto della partecipazione, anche la soluzione della modifica della società sta nello stesso fatto. E quindi, la cosa che vorrei dire, infatti io l'ultima, ho modificato un po' il titolo, essendo un peones, il titolo, l'ha preparato i titoli, l'ha preparati prevalentemente Giorgio Ducca che è un professore e quindi evidentemente c'è un certo taglio. Io sono un po' più basso e quindi ho fatto qualcosa di più semplice. E l'ultima cosa è quella che mi interessava, cioè che fare, no? Perché giustamente veniva detto, non è che possiamo continuamente fare la denuncia dicendo che è tutto uno schifo, che è così, ma dobbiamo anche vedere in che modo poi cercare di uscirne fuori e per cercare di uscirne fuori forse è, più che dire tutto è uno schifo, cercare di ripercorrere un po' la storia, no? E in effetti questo corso, il discorso della storia è venuto già fuori, abbiamo invietato delle persone che hanno fatto proprio il discorso, che hanno raccontato un po' com'era e come è stata e quali sono le critiche che possono essere state fatte. Allora, siccome il tema è quello di parlare della sanità in Lombardia, io rispondo subito al che fare, in questo senso che noi abbiamo pensato di fare un incontro finale un sabato mattina, proprio su questo tema, sulla sanità in Lombardia, ma che ha lo scopo di discutere fra tutti noi e quindi non solo fare delle relazioni e quindi poi fare delle domande, no, ma tutti sono dei relatori, no? e quindi conseguentemente poi magari questo lo organizziamo meglio e forse nella misura in cui siete d'accordo potremmo fare anche in un luogo più vasto questa riunione facendo anche degli inviti ad altri che non hanno partecipato al corso perché erano interessati, non potevano, eccetera, eccetera, no? in modo tale che questo che fare diventa vero nella misura in cui c'è una maggiore condivisione. Quindi, io ho intitolato dalla progressione alla regressione per parlare della sanità in Lombardia in questo senso qui c'è qualcosa che io non sono un grande esperto e quindi non sono riuscito in questo senso, no, devo tornare indietro, precedente, 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 precedente. Vabbè, qui un po' però si capisce lo stesso. Ho cominciato da questo perché la vicina democratica come, diciamo, centro di riferimento il pensiero di Giulio Macaccaro, ma non preso come una sorta di Deo, no? Ma come qualcuno che è riuscito a interpretare in quel momento quali erano gli elementi essenziali del diritto alla salute dentro questo tipo di società. E questo è un discorso fatto nel 1972 che in cui veniva fatta la critica del sistema sanitario in una maniera, sanitario e sociale, aggiungo, in una maniera molto cruda, no? Che è una critica che penso che forse oggi si può ancora fare, nello stesso modo. Lettera al presidente dell'ordine dei medici Vabbè, non sto a spiegare tutta la storia perché se no diventa troppo lungo ma resto a questa frase che veniva espressa in quel momento curare vorrà allora dire diagnosticamente ridurre il malato alla sua malattia la malattia alla sua condizione organica l'organo malato al danno obiettivabile il danno a un segno e il segno alla sua misura poi ripercorrere terapeuticamente il percorso inverso la correzione del segno mistificata come eliminazione del danno il silenzio dell'organo come sconfitta della malattia l'obliterazione della malattia come restituzione della salute in questo processo che si ripete ogni giorno negli ambulatori e nelle corsie l'uomo fatto cosa è diventato cosa di un altro uomo un padrone o un medico non fa differenza se la scienza del medico è quella del padrone mi sembrava proprio quello che diceva in questa mancanza di socialità l'uomo fatto cosa è diventato cosa di un altro uomo allora magari le cose che dico possono sembrare un po' staccate una dall'altra ma lo scopo finale è proprio questo fare un po' la storia capire che ci sono stati i momenti in cui c'è stata maggiore partecipazione c'è stata una maggiore socialità e c'è stata una migliore condizione di salute e di vita al di là poi che le malattie magari erano di più prima che adesso e quindi arrivo al 1978 in cui si è cercato di cambiare quello che Macaccaro aveva detto e Macaccaro aveva pure dato anche delle indicazioni su come fare ricordo anche quanto diceva il professor Tormacini che la riforma sanitaria ha avuto le basi nel 1943 come Tato di Liberazione Nazionale Alta Italia e quindi nel momento in cui c'era la lotta di liberazione allora qui io ho preso un documento che è venuto fuori nel 1979 in un convegno fatto da CGL Cisluila da Riccia cui avevo partecipato insieme anche a Walter Fossati che è intervenuto in cui diciamo questo documento poi era stato steso da uno che per quelli che hanno presente la storia delle lotte per la salute è molto importante Gastone Marri e dice così la legge 833 nonostante i limiti e le contraddizioni può permettere la creazione di un sistema basato sull'approccio preventivo anche per quanto riguarda la cura e la riabilitazione capace di autoregolarsi rispetto alla ricerca alla conoscenza, al controllo alla eliminazione dei rischi e dei danni più gravi e più diffusi che interessano i lavoratori e la popolazione per avviare questo processo di progressiva sostituzione del vecchio assetto sanitario basato sull'approccio individuale e privatizzato della malattia fatto di domande di intervento sparpagliate ed incontrollabili sia per quanto riguarda l'efficacia degli interventi stessi sia per quanto riguarda la spesa con un sistema basato sulla programmazione la prevenzione e la partecipazione occorre una grande mobilitazione ed una grande iniziativa popolare e di massa scusate che mi sono dimenticato di spegnere allora io ho sottolineato questo discorso una grande mobilitazione e una grande iniziativa popolare e di massa perché non sarà di certo la nostra capacità di ragionamento che farà cambiare le cose io credo che questo deve essere qualcosa di molto chiaro per tutti noi prosegue sempre questo documento la federazione CGLI assuma e colmi il voto legislativo di strutture partecipative avviando a soluzione il problema scientifico della individuazione, del controllo e della eliminazione partecipata dei rischi e dei danni tramite la costituzione di comitati di partecipazione come prima aggregazione nel territorio della USL non della ASO, della USL di tutti coloro che hanno esperienza nei luoghi di vita e di lavoro nella lotta contro la nocività in quel periodo sono anzi addirittura prima della riforma sanitaria sono nati gli smal perché poi il punto di partenza della nostra storia ma anche è arrivato il punto d'arrivo se volete della legge di riforma sanitaria sono state le lotte per il diritto alla salute nei luoghi di lavoro e sul territorio i servizi di medicina e del lavoro sono nati prima della riforma sanitaria in Lombardia e sono nati come? sono nati tramite questo grande discorso di partecipazione dal basso da parte dei lavoratori che a un certo punto hanno messo in crisi il sistema precedente che era semplicemente un sistema basato in fondo sull'accettazione della condizione di salute di perdita della salute e di trasmutazione in moneta della salute persa questo è stato messo in discussione ed è stato modificato modificato addirittura rivolgendosi ai comuni perché gli smal sono nati direttamente mettendo assieme alcuni comuni cioè alcuni comuni messi assieme che hanno deciso di fare un servizio di benicene di lavoro stesso discorso è avvenuto per i consultori a un certo punto le donne messe insieme constatando una determinata situazione hanno detto qua occorre che formare dei servizi avere dei servizi che rispondano uno, due, tre eccetera eccetera e questa cosa è avvenuta io voglio paragonare alla situazione facciamo subito un discorso sulla situazione attuale in cui è difficilissimo ottenere la benché minima cosa ma forse bisognerebbe chiedersi come mai se questo dipende dal fatto che c'è lo spread e quindi c'è la crisi oppure dipende dal fatto che c'è effettivamente una grandissima dispersione e una grandissima difficoltà a mettersi insieme con la riforma sanitaria c'è stata l'istituzione delle unità sociosanitarie locali che non erano dei grandi macchinoni diretti da una super personalità come ci vogliono far credere su un territorio vastissimo in modo tale che non si sa non c'è più un rapporto fra chi esiste e ha dei bisogni e chi governa a Milano che c'erano 20 zone c'erano 20 unità sociosanitarie locali a me viene in mente il discorso dei consultori perché mi ricordo io ero della zona 19 c'era il capo della zona 19 il presidente del comitato di gestione mi ricordo che era un ginecologo e forse sarà stato anche per quello che le donne di Baggio che sono messe insieme hanno fatto un po' e c'era per forza questo tipo di rapporto e quindi lì sono stati istituiti i servizi sociosanitari è stato anche visto che c'è una contiguità fra unità sociosanitarie e ospedale fra ospedale e territorio e anche qui si possono fare anche molti esempi ma andiamo avanti su questo io punto su questo fatto per arrivare evidentemente all'oggi cioè si è proprio per dimostrare questo che nel momento in cui c'è stata la partecipazione ci sono state le modificazioni il problema di oggi è dire è possibile oggi una cosa simile in una situazione molto cambiata e in una situazione molto più difficile allora la regione Lombardia nel 1988 quindi dieci anni dopo la riforma sanitaria ha fatto una legge sulla partecipazione che era la legge numero 48 del appunto 1988 questa legge poi è stata anche assunta il colmo anche dalla legge 31 della regione Lombardia del 1997 di cui evidentemente faccio proseguire nel discorso della regressione perché nel 1978 c'è stata una partecipazione in avanzamento ma da lì poi si è cominciato la partecipazione è cominciata a ridursi e quindi anche i servizi cioè si è andati via via reclinando allora questa legge che appunto è stata fatta nell'88 che diceva strumenti di partecipazione alla vita dei presidi e delle strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati e dice cioè dice perché ancora di per sé non è stata non solo non è stata drogata ma è passata ma è passata nella legge 31 la legge fondamentale della regione Lombardia e l'ha fatta passare qui presente Pippo Torri quando era consigliere regionale facendo un emendamento è l'unico che è l'unico emendamento che si è riuscito a passare in quel momento anche perché tanto pensavano che non si sarebbe attuato un bel niente rispetto a quello che c'era scritto perché c'è anche questa tecnica politica che viene utilizzata le cose che poi non passeranno mai nella pratica te le faccio te le regalo anche no e dicevo oltre agli strumenti di partecipazione sociale a livello distrettuale gli enti responsabili dei servizi di zona e gli organi distrettuali possono istituire al fine del rispetto dei principi di cui è la presente legge comitati di partecipazione degli utenti dei loro familiari e degli operatori sanitari alla vita dei presidi e delle strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati gli enti responsabili determinano con regolamento approvato dall'assemblea la composizione dei comitati di partecipazione le modalità di funzionamento e di convocazione anche su istanza degli utenti o degli operatori o delle associazioni locali di tutela dei diritti degli utenti e del servizio sanitario nazionale evidentemente quel discorso della comunità sociale che faceva Gianni Tognoni deve essere per certi versi formalizzato e noi l'abbiamo visto formalizzato quando come un organismo che abbiamo inventato con i francesi che si chiamava Ecole Disperse de Santé Européenne scuola di salute diffusa europea abbiamo visitato alcuni distretti socio-sanitari che si chiamavano non mi ricordo esattamente in Spagna a Cordova e a Sevilla in quel territorio noi abbiamo visto che quello che noi avevamo preventivato e che qui non è stato realizzato ci sono stati due comitati di partecipazione in Lombardia che conosca io ma in quel periodo conoscevamo tutto per cui effettivamente è stato così anche uno per cui la cosa la conosco abbastanza però in effetti questi comitati di partecipazione che noi abbiamo riscontrato in Spagna erano esattamente quello che Macattaro diceva di quelli dovevano essere le case della salute ovvero un luogo dove certo si fornivano relazioni di salute e si faceva anche della buona medicina magari lo stanno facendo ancora adesso abbiamo perso i contatti ma al tempo stesso questa cosa era governata da i gruppi di cittadini che entravano all'interno di questa struttura era una struttura fisica la casa della salute non un discorso genetico era una struttura dove c'erano i medici di medicina del lavoro al tempo stesso c'era la salute mentale le tossicodipendenze la salute della donna cioè le cose essenziali erano all'interno di questo tipo di struttura e però ce l'hanno anche i cittadini diciamo che da lì si è cominciato non realizzando alcunché di partecipazione si è cominciato a decrescere pesantemente e quindi si è passato dalla partecipazione quello che Maccacaro ha così spiegato cioè quando si perde la partecipazione e al posto della partecipazione si mette l'efficienza cioè quello che è avvenuto in quel periodo è che invece di lavorare con i cittadini sulla condizione reale prima a partire da quelli organizzati evidentemente si è spostato il discorso sulla spesa sanitaria tanto che le USLO sono state considerate e un po' lo sono state effettivamente fonte di clientele politiche i cosiddetti distretti sanitari che dovevano essere quelli più vicini ai cittadini e di fornire i servizi essenziali non sono mai effettivamente partiti se non naturalmente con delle eccezioni si è cominciato a ridurre il personale sono arrivate le prime leggi che dicevano non si assieme più nessuno sono arrivate la gratuità del servizio è stata ridimensionata per poi arrivare al 1992 quella che io qui chiamo ma era così la contro riforma sanitaria la legge di Lorenzo cosiddetta in cui il declino si è affermato è iniziato un'epoca assolutamente diversa che quella che ci sta portando adesso allo smembramento del servizio sanitario nazionale dalle usla siamo passati alle asla dal finanziamento a giornata di degenza che comunque non che fosse che era distorto gli ospedali venivano pagati in funzione delle giornate di degenza dei pazienti e quindi poi però siamo andati esattamente all'opposto si è passati ai DRG e quindi i pazienti più li mandiamo fuori e più siamo contenti e dall'ambigua gestione dei comuni dico ambigua perché i comuni non si sono mai effettivamente impegnati per far funzionare la sanità perché i comitati di gestione erano nominati dai comuni e quindi dovevano essere i comuni che gestivano la sanità e invece visto che i comuni questo l'hanno fatto poco e male hanno pensato al direttore generale e si è passati da una sanità sociale come quella che preventivava Gianni Tognoni ad una sanità efficiente cioè una sanità sostanzialmente basata sulla spesa in Lombardia questa traduzione della 502 è arrivata più tardi nel 97 con la famosa legge 31 in cui si sono ridotte le AS di numero sono nate le aziende ospedaliere le AS cioè le AS sono diventate USLA erano già diventate ASL quindi sono rimaste AS ma poche sono nate le aziende ospedaliere è stato separato il discorso dell'ospedale dal territorio aziende ospedaliere e aziende sanitarie è stata fatta una falsa integrazione del sanitario con il sociale nel senso che la sanità dovrebbe essere sociale invece è stato detto no c'è un pezzo di sociale e un pezzo di sanitario e questo soprattutto per le categorie che venivano prima nominate da Gianni Tognoni le persone malate croniche anziane non autosufficienti malati mentali c'è una componente sociale una componente sanitaria che poi la cosa è finita in moneta nel senso che la componente sanitaria te la metto io come regione la componente sociale la paghi tu come cittadino e quindi una cosa che non è di poco conto è che ha mandato sull'astrico parecchie persone perché provate voi a pagare una retta di una casa di riposo 1500 euro da 1500 a 2500 euro al mese non solo ma poi c'è stata anche un'altra divisione e che è quello del rapporto fra ambiente e salute sono state inventate le arpa questo anche grazie ai verdi ma questo detto fra di noi i radicali i radicali no ma c'erano anche i verdi e quindi adesso che è uscito fuori il discorso dell'analisi ambientale è uscito fuori dalle usla che già non era un flusso ed è finito a parte e soprattutto poi è stato il discorso è stato centrato non c'è più né pubblico né privato ma tutto è esattamente sullo stesso piano e se posso riassumere il discorso di questo tipo di sistema è quello in questi termini un po' sloganistici però mi sembra quanto vero è diventato sempre di più la salute è una merce e la sanità è un affare è quello che ha dominato in regione Lombardia cioè che cosa ha dominato e sta dominando ancora ancora di più è il dominio del sistema medico-industriale la storia dei farmaci che è stata appena raccontata gli acquisti di macchinari tecnologizzati una bella tac in copra parentesi non si è rifiuta nessuno adesso si fa anche alle 11 di sera in vari ospedali le 11 nel senso delle 23 in cui come dire il discorso delle prestazioni è diventato dominante e quindi più prestazioni si fanno e più si fa sanità questo è quello che oggi va per la maggiore e insieme a questo ci sta l'intramegna l'extramegna la sanità integrativa la questione è anche un po' questa che la relazione fra la relazione dentro nel sistema ha se volete avuto un soggetto un soggetto dominante che è quello e questo non solo in Calabria ma secondo me forse molto di più in Lombardia che è quello della corruzione e quindi la relazione fra diciamo quello che deve fare funzionare la sanità il legislatore chi paga i fornitori dei servizi provider gli altri fornitori e soprattutto i pazienti che qui non sono venuti fuori per mia incapacità con questo tipo di programma è una relazione che è stata assolutamente negata io credo che bisogna fare una riflessione su questo discorso della della corruzione e se forse io sono un po' come dire c'è un po' la testa in tribunale rispetto alle numerose parti civili in cui si trova la medicina democratica e adesso arrivo dal tribunale udienza della santa rita durata tutto il giorno è il secondo processo per omicidio volontario quindi c'è la corte d'assise in cui ci si trova di fronte dove in questi giorni ci sono due udienze la settimana lunedì e mercoledì stanno interrogando gli imputati oggi interrogavano il secondo imputato non ancora al primo quello più indiziato che ha già i suoi 16 anni di carcere dopo il primo processo il secondo tal anche questo un chirurgo toracico che si chiama presici veniva interrogato su una serie di casi che erano finiti a morte esempio persone di 86 anni o di 90 anni dico due casi precisi che ho davanti di cui è stato interrogato che con grave sconferso cardiaco sono stati operati hanno fatto un'operazione chirurgica hanno fatto un'operazione di chirurgia toracica e quindi questi dopo un po' sono morti e però la tesi di questo presidio non è stata dire scusate ho sbagliato ma è stata quella di difendersi anche si vede che stando in carcere si è comunque molto preparato bene dal punto di vista tecnico a dimostrare che quella cosa era assolutamente giusta uno si è accorto che il pubblico ministero sono due donne molto toste che gli ha fatto fare tutta la storia e poi questa storia veniva alla fine e diceva ma cosa è successo quel giorno là quel giorno là il paziente è deceduto e non riusciva a collegare diciamo questo imputato il discorso da l'operazione che hanno fatto loro con una manchevolezza anche dal punto di vista tecnico non sono io che lo sto a discutere però il problema fondamentale era questo qua che dietro questo discorso ci stava un tipo che era il padrone della clinica Santa Rita che aveva detto a tutti i primari più prestazioni fatte e più sarete pagati e quindi questi il chirurgo toraci sono quelli anche gli altri ma questi sono quelli che l'hanno preso più sul serio e quindi sono andati avanti fino all'estreme conseguenza ma attenzione non c'è stato solo se noi siamo della Lombardia quindi lo sappiamo bene la Santa Rita è l'estremo è l'estremo limite ma non l'unico no? se se vi ricordate io qui sono partito dal 72 perché casualmente ho trovato un articolo su sapere fatto dal collettivo di medicina in quel periodo del movimento studentesco a quei tempi gli studenti si occupavano anche di sanità che ha fatto la storia di un ospedaleggiatore abusivo quel tale si chiamava Don Merzè ed è la storia di San Raffaele come è nato e quindi da qua si vede come è nato il San Raffaele che è stato un incrocio di affari e di clientele e di appoggi stranissimi e come fra l'altro ha anche continuato ad andare avanti lì è molto descritto questa storia ma se vado avanti pensate al Galeazzi al Galeazzi sono morte 11 persone 11 persone che sono bruciate per la mancanza di sicurezza e quindi diciamo il processo è stato su questa questione dell'ambiente di lavoro di mancanza di applicazione delle leggi sulla sicurezza sul lavoro e però mi ricordo che noi avevamo fatto un esposto alla procura della Repubblica non su questo ma dicendo che quelle 11 persone che erano lì non avevano niente a che fare con l'esame come si chiama ossici di iperbarica non avevano niente a che fare con le necessità di entrare all'interno di una camera iperbarica poi sono morte perché lì non funzionava l'antincendio non funzionava niente ma al di là di questo non dovevano essere lì questa cosa è passata sotto silenzio perché Rigresti è stato condannato non so se abbiamo sentito parlare di Rigresti e di Lombardia è stato condannato per il discorso della mancanza di sicurezza ma andiamo avanti più il San Rafaere è stato iniziato prestazioni gantiate inappropriate multimedica San Siro San Carlo tutte cliniche private non il San Carlo quello pubblico prestazioni gonfiate clinica San Giuseppe prestazioni inappropriate e anche nel pubblico hanno fatto delle indagini a riguarda Cattagerone è stato condannato al Fatebene Fratelli al San Carlo quello pubblico a Legnano a Legnano a Garbagnate come dire nel 2012 ai privati sono stati dati 176 milioni in tre anni di cui 84 sono finiti a San Raffaele e alla Maugeri il 25 e citavo semplicemente questo fatto che il 25 ottobre Formigoni è stato inviato a giudizio ha cominciato il processo noi pensiamo a questo discorso della corruzione e poi vediamo che uno dei corrotti era il Presidente della Regione cosa che mi sembra un discorso assolutamente pesante allora e qui io ritorno e così concludo al discorso del che fare dicendo che questo del corso del che fare in una situazione come questa ci deve vedere chiaramente più impegnati chiaramente più impegnati nel senso di dire che quello che noi abbiamo acquisito nel passato nel momento in cui avevamo ottenuto determinati risultati positivi dovrebbe essere rivisto in una situazione certamente più difficile e più complicata ma che quei fondamenti sono ancora validi e quindi anche se siamo in un sistema capitalista anche se come stiamo facendo noi per riuscire ad ottenere dei risultati dobbiamo andare in tribunale perché quando andiamo per via politica otteniamo non dico poco niente ma sotto niente allora credo che tutte queste cose andrebbero messe insieme e andrebbe visto che cosa effettivamente si può e vorrei dire si deve fare perché oggi la sanità pubblica credo che sia sotto gli occhi di tutti si sta distruggendo ma perché in fondo si sta distruggendo la sanità la sanità lombarda adesso hanno dato dei numeri se voi volete andate sul sito di medicina democratica e trovate un convegno molto interessante a cui abbiamo partecipato fatto da il movimento per la decrescita felice che si chiama così il convegno è decrescita e salute lo trovate sul sito ci sono tutti gli interventi che sono stati fatti guardatevene qualcuno e in questo è venuto fuori questo dato il 5-6% parlo di livello nazionale della spesa sanitaria va in corruzione e secondo me questo è essere ottimisti rispetto per esempio alla situazione alla situazione nostra però se questo lo mettiamo insieme all'uso dei farmaci all'uso distorto dei farmaci ai macchinari lo mettiamo insieme alle prestazioni sanitarie inutili e dannose il 40% delle TAC sono inutili e costano le TAC e costano le macchine e quindi se mettiamo insieme tutto questo poi ci vengono a dire che mancano i soldi per la sanità evidentemente questo è un'attività ma allora io ritorno a quello che dicevo prima non basta se voi vi andate a vedere tutte queste analisi che sono state fatte da persone molto esperte in questo convegno alla Camera dei Deputati c'erano 300 persone i deputati erano 3 che sono stati quelli più come dire meno l'altezza della situazione ma non basta il ragionamento quello che alla fine conta è che ci deve essere io l'avevo messo come ultima prova che adesso non trovo più vediamo perché mi è venuto ecco qua però invece questo questo mi è venuto abbastanza bene dove dice la lezione marissima e chiara non si può attuare una riforma sanitaria se non mutando profondamente il quadro sociale che la contraddice nella sanità come nella società sono i rapporti di potere quelli che contano e quando essi sono rapporti di classe solo lo scontro non il compromesso ne decide l'essere e il divenire ecco per dire che noi ragionamenti li dobbiamo fare le dimostrazioni le dobbiamo fare ma alla fine dobbiamo sapere che le cose si cambiano perché facciamo uno scontro perché facciamo uno scontro di classe uno scontro di interessi che poi è quelli che sono dominanti grazie